Eccoci qua Colosseo, guardate Colosseo, praticamente stiamo andando ai piccoli e ai piccoli, che c'è il veritano, vediamo se arrivano in attivazione, dai, tiralo, dai un altro pezzo alla signora, così io voglio dire, un altro pezzo, una mollichella. Vedi i due gabbiani, aspetta c'è ancora il pane Fabio? Vieni Fabio, c'è la pezzettina. Spostate un pochettino Fabietto, falli circolare un po'. Non troppo grossi perché sennò poi non ce la fanno a mangiarlo. Sì, c'è ancora eh? Ah, ecco gli altri. I gabbiani dove sono, sono finiti. No, sono finiti. C'erano pure prima. Ma questo sta raccolto, guardalo, ha preso un pezzo di pane grosso. C'è ancora? C'è ancora? C'è ancora? C'è ancora? C'è ancora? C'è ancora? Aspetta però mamma. Sono curioso e tanta gioia. Mamma mia, tutto il mondo. Aspetta, mamma devi aprire il sacchetto però. Adesso sto facendo però una parola, scusa, ti è taglialo, questo è l'ultimo. Basta. La signora. La signora, quella nostra vita. C'è ancora un po' di fantasia? 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 Senti, non morirei. Ah, eccoli là, eccolo qua. Tieni, copriamo. Eh, dàglielo pure a lui. Vai, vai, vai. Ti taglia a loro, ti taglia a loro, Fabio. Guardate, è caricolissimo. No, 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 in Alpo no, eh. Basta, Fabio. Arrivederci a tutti, anche con lei. Ciao. Ciao.